Ciao, io sono Nadia Centoni, ex giocatrice della Nazionale Italiana di Pallavolo e adesso team manager. In questo momento di grande emergenza sanitaria non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a lottare contro i tumori del seno. Io ho già donato per Comen Italia, dona anche tu. Vai su www.comen.it, tocca a te. Ciao!